Cosa è una risonanza magnetica T1? Uno studio di risonanza magnetica T1, Imaging a risonanza magnetica, è un tipo di studio di base sulla risonanza magnetica che può essere condotto per raccogliere informazioni su ciò che sta accadendo all'interno del corpo di un paziente. Questo test può essere eseguito rapidamente e restituisce risultati ad alto contrasto. I pazienti possono essere invitati a sottoporsi a ripetuti test utilizzando tecniche di risonanza magnetica diverse in alcuni casi, e altri studi di Imaging Medical possono anche essere ordinati, se necessario, insieme a strumenti diagnostici come i lavori di sangue. T1 è un valore usato per riferirsi al modo in cui i diversi tessuti del corpo rispondono agli impulsi della macchina di risonanza magnetica. Queste macchine lavorano da entusiasmanti protoni e leggono il cambiamento risultante nel campo magnetico. Il valore di T1 si riferisce alla quantità media di tempo in cui i protoni in un determinato tipo di tessuto passano in uno stato di alta energia prima di tornare al loro stato di base. Diversi tessuti, come grasso e muscoli, rispondono in modo diverso agli impulsi di risonanza magnetica, creando contrasto nelle immagini risultanti. L'imaging a risonanza magnetica T1 è particolarmente utile per l'imaging del cervello, poiché la materia grigia e bianca si comportano in modo molto diverso e viene restituita un'immagine nitida chiara del cervello. Inoltre, le lesioni iperintense nel cervello appariranno chiaramente sulla risonanza magnetica come macchie molto scure, mentre cose come le emorragie appariranno palide a bianche, a seconda delle loro dimensioni e intensità. L'utilizzo della risonanza magnetica T1 consente al medico di ottenere un'immagine ad alta risoluzione dell'interno del cervello per raccogliere le informazioni utilizzate nello sviluppo di un piano di trattamento per il paziente. Si dice che vari tessuti nel corpo abbiano differenti pesi di T1, riferendosi alla loro attività nella macchina di risonanza magnetica. La regolazione degli impulsi utilizzati dalla macchina può restituire vari risultati eccitando i protoni in modi diversi. Questo può essere usato per creare immagini tridimensionali di imaging a risonanza magnetica e risonanza magnetica a colori, oltre a dettagliate immagini di risonanza magnetica T1 in bianco e nero. Questa è la forma più comune di risonanza magnetica utilizzata nella diagnosi medica e può essere eseguita con o senza un mezzo di contrasto. A volte una scansione viene eseguita prima senza contrasto e poi ripetuta con il contrasto per evidenziare eventuali differenze e anomalie strutturali. Durante una risonanza magnetica T1, il paziente dovrà giacere immobile su un tavolo nella macchina per la risonanza magnetica. La macchina può essere rumorosa e può essere scomoda e ai pazienti viene solitamente offerta una protezione per l'udito e possono essere somministrati sedativi per aiutarli a stare calmi nella macchina. Lo spostamento durante la risonanza magnetica T1 disturba le letture e può forzare una ripetizione del test per raccogliere dati accurati.